Dopo perché vorrei farvi vedere una persona che è il parroco della comunità dove vivevano i genitori di Filippo, Don Franco Marin, che conosceva la famiglia e ci ha detto alcune cose sulla famiglia di Filippo. Sentite le sue parole. Non hanno spiegazione. Non hanno spiegazione. Non lo sanno. Dove abbiamo sbagliato? Cosa abbiamo fatto? Don Franco, noi abbiamo sentito molto i padri in questa vicenda. La madre di Filippo, come la sta vivendo? Questo dovresti chiederlo a lei. Ovviamente io non ti so dire come... Che lei ci avrà parlato. E' quello che posso percepire. Una madre, tu sì, pensa una madre. Pensa l'addolorata. Ma quante parole ha detto Maria quando suo figlio gli è stato adagiato sulle ginocchia? Morto, cadavere. Sì, però è vero che qui la vittima è l'altra. Una madre, certo, è travolta dal dolore del suo figlio che in controluce le ricorda la morte della Giulia. Sì, però è vero che la vittima è l'altra.